Sono 581 i nuovi aretini positivi al covid nelle ultime 24 ore. Dal report della ASL Toscana Sud-Est, nelle altre due province di competenza, i nuovi positivi sono 465 a Siene e 234 a Grosseto. I tamponi effettuati in provincia di Arezzo sono complessivamente, tra antigenici e molecolari, 3062. 20 le persone guarite, sempre in provincia di Arezzo, venendo invece all'occupazione dei posti letto, nella cosiddetta bolla covid il numero continua a salire. Ad oggi sono 35 le persone ricoverate, l'85% di loro non è vaccinato, il 15% è vaccinato con prima dose o con due dosi da più di 120 giorni, 4 i pazienti invece ricoverati in terapia intensiva, tra loro non c'è alcun vaccinato. Dal punto di vista dell'età, la fascia che risulta ancora una volta maggiormente colpita è quella che va dai 35 ai 49 anni, con 131 contagi in più. Nella fascia 0-18 c'è ancora un numero piuttosto alto di contagiati, in provincia di Arezzo sono 92. Sul fronte invece dei comuni, ad Arezzo sono 168 i nuovi positivi, segue poi il comune di Castiglion-Fiorentino con 41 nuovi positivi, Cavriglia 26 e Bucine 15 positivi.